Tutti quanti signori stiamo seguendo la scomparsa di Maurizio Costanzo, lo stiamo facendo con tanti argomenti, con tante piccole cose e anche piccole curiosità, e infatti tra le tante cose anche Silvia Toffanin ha deciso di compiere un gesto, un gesto abbastanza importante, ovviamente in memoria del grande conduttore tv, autore di una vera e propria rivoluzione nel piccolo schermo, perché dobbiamo ammetterlo che è così. Infatti si deve praticamente a lui la nascita del salotto tipo in generale, che poi è stato scelto anche dai suoi colleghi, che hanno preso le redini. In attesa dei funerali di Maurizio Costanzo, morto a 84 anni dopo aver trascorso diversi giorni in una clinica romana, Silvia Toffanin offrirà al suo pubblico qualcosa di bellissimo e indimenticabile. Ad annunciarlo è stato Mediaset con un comunicato stampa ufficiale e successivamente anche la pagina Instagram di Verissimo. I telespettatori aspettano con grande curiosità a questo momento televisivo. Ricordiamo inoltre che ci sono già stati numerosi stravolgimenti nel palinsesto del Biscione. Dopo che Maurizio Costanzo è morto, lasciando sotto shock sua moglie Maria De Filippi e tutti coloro che gli volevano bene, anche Silvia Toffanin è corsa subito ai ripari cambiando la sua originale scaletta di Verissimo. Sappiamo anche che amici e c'è posta per te non saranno mandati in onda, così come è già successo con Uomini e Donne nelle scorse ore. Annullata anche la fiction Buongiorno, Mamma. Due e la registrazione di UED, che prevedeva anche la scelta di Federico Nicotera nella giornata di lunedì 27 febbraio. Nella nota stampa Mediaset ha scritto, sabato, in prima serata, Canale 5 trasmette la riproposizione di due serate speciali e indimenticabili inventate da Maurizio Costanzo, in ordine alfabetico i tre tenori. Domenica 26 febbraio, alle 16.30 Silvia Toffanin conduce su Canale 5 lo speciale Verissimo presenta Ciao Maurizio. Lunedì 27 febbraio Canale 5 seguirà in diretta i funerali di Maurizio Costanzo. E poi Verissimo ha annunciato anche una novità televisiva, in programma nel pomeriggio di sabato 25 febbraio. Verissimo ha invece comunicato ai telespettatori. Oggi a Verissimo ricorderemo il grande Maurizio Costanzo, un uomo che ha cambiato il mondo della televisione. Vi aspettiamo alle 16.30 su Canale 5, ma non sono stati riferiti ulteriori particolari su ciò che verrà proposto.